Terzo giorno dell'Isbaraduno, dove siamo Loris? Siamo a Siltri. Siamo sempre a Siltri noi. Invece no, è un trucco. Oggi siamo a San Simone e stiamo salendo per fare il lemma. Tonnellate di polvere sotto le nostre ciaspole. Esatto Loris, ecco la creme degli allievi della scuola aerobica, i migliori allievi del corso snowboard dell'anno scorso. Non stiamo stanchi. E non stiamo parlando di snowboard.